Si parla di emergenza educativa, un tema che anche le cronache del nostro territorio ci portano davvero come un tema emergente. Voi avete pensato ad un incontro? Sì, abbiamo voluto impostare questo incontro per cercare di portare un contributo costruttivo, cercando di non fare solo gli strilloni, ma cercando di fare una riflessione di analisi da parte di persone competenti e poi cercare però che non sia solo un'analisi ma che sia anche un incontro in cui emergono anche delle proposte dove emergere come il rapporto dei giovani nella società retina, che poi questi giovani se vengono stimolati sono anche interessati come l'intervento che c'è sull'educazione civica con le scuole. Quindi la nostra riflessione è stata questa, cercare di dare un contributo costruttivo a un argomento che è un po' sulla cresta dell'onda nella società retina. Ecco, tanti soggetti che avete messo insieme, ma darete voce proprio anche ai ragazzi? Assolutamente sì, diciamo che lo spirito appunto, come dicevo, a livelli dell'iniziativa è quello appunto di parlare di questo tema che è l'attualità, ma non solo del disagio giovanile, andiamo a mettere in risalto anche le tante qualità che ci sono nei giovani e anche dell'agio giovanile. Naturalmente questo noi l'abbiamo impostato appunto come un lavoro di squadra, bisogna essere vicino alle istituzioni e per questo a questo convegno ci sarà il vice sindaco e l'assessore di Arezzo Lucia Tanti che è sempre molto attenta alle dinamiche del sociale, alle dinamiche dei giovani e a quello che si muove nel campo dell'associazionismo del terzo settore. Ci sarà il deputato Gabriele Toccafondi, ci saranno esperienze direttamente sanitarie come il dottor Beccattini e nonché anche la scuola, cioè quegli attori che nel ruolo formativo dei giovani rivestono un ruolo importante, quindi la scuola, la famiglia parte da questo e appunto anche la presenza dell'ambito scolastico del preside Artini come presidente nazionale dei presidi sta a significare questo, quindi vi aspettiamo numerosi perché può essere un momento appunto di confronto, di risoluzioni e anche e soprattutto lasciare la parola ai giovani.